Sarà ascoltato lunedì prossimo dalla procura di Pescara l'ex capo della squadra mobile del capoluogo adriatico Pierfrancesco Muriana, iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di calugna formulata dal procuratore aggiunto Anna Maria Mantini e dal sostituto Luca Sciarretta. Il fascicolo a carico di Muriana è stato aperto in seguito alla denuncia presentata tramite l'avvocato Monica Passamonti da uno dei tre carabinieri forestali che precedentemente erano stati indagati per falso materiale e falso ideologico in riferimento alle indagini sul disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola proprio sulla base della denuncia dell'ex capo della squadra mobile. Il GIP Elio Bongrazio su richiesta della stessa procura aveva però archiviato le posizioni dei tre forestali chiarendo che non esistono elementi per sostenere l'accusa e che non vi è alcun elemento che possa corroborare l'ipotesi dolosa delineata dal denunciante. Muriana nella sua denuncia aveva riferito che il 27 gennaio 2017 pochi giorni dopo la tragedia aveva trasmesso via pecca ai carabinieri forestali l'annotazione dell'agente crosta riguardante una telefonata effettuata dal cameriere del resort Gabriele D'Angelo poche ore prima del disastro per chiedere aiuto al coc di penne. L'ex capo della mobile di Pescara contestava ai forestali di aver inoltrato tale annotazione alla procura solo il 12 novembre 2018 e di avere falsamente dichiarato che era già stata inviata il 27 di gennaio dell'anno precedente. Inoltre Muriana accusava i forestali di avere falsificato il documento cancellando la data e il numero di protocollo originariamente apposti sulla nota. Immediatamente è scattato un contresposto dei forestali che ha portato all'apertura di un primo fascicolo a carico di Muriana per favoreggiamento del depistaggio al quale ora si aggiunge un secondo fascicolo per calugna.